Bukhegger, la via e Grebennikov in seconda. Ricezione ancora difficile di Petric, poi si va da Bukhegger, vincente l'attacco dell'austriaco. Modena esce da una situazione complicatissima. Al servizio poi Grebennikov palla per Bukhegger, money out di Bukhegger. Sicuramente ha avuto un impatto abbastanza positivo sul match. Intanto Trinidad e Aro, flottante, Grebennikov in ricezione e poi ancora Bukhegger, money out dell'austriaco. Terzo punto di Bukhegger. Modena comunque rimane davanti a Varsavia anche dopo questa partita e quindi ha tutte intate le possibilità di passare il turno come prima. Paul Bukhegger intanto di nuovo a segno, se non sbaglio il quarto punto di Bukhegger nel parziale, 23-17. Non è poi così facile dal punto di vista mentale giocare una partita come quella di domani, essendo costretti a vincerla. Bukhegger, grande attacco, va a terra. È l'unico che ci sta mettendo nel suo, Paul Bukhegger. Varsavia salirà a quota 11. Con questa vittoria, intanto Bukhegger finalmente toglie Modena. Questa rotazione difficilissima, non è ancora finita. Forte su Carlicek e poi si va da Bukhegger, money out di Bukhegger. L'urlo di Bukhegger.